Avrebbe avvicinato una ragazzina di 12 anni mentre la piccola attendeva l'arrivo del treno e con una scusa avrebbe iniziato a porre domande per guadagnarsi la sua fiducia sino a pronunciare frasi sconce che hanno spaventato la bambina. E la ricostruzione dopo le voci ampiamente diffuse e rincorse sul web nella giornata odierna di quanto sarebbe accaduto giovedì sera attorno alle 18.30 alla stazione di Trani. La vittima come detto una ragazzina di 12 anni che attendeva il treno con a bordo la mamma che aveva sentito al telefono poco prima. Secondo quanto appreso un uomo sulla settantina si sarebbe avvicinato con un pretesto iniziando a fare domande divenute ben presto indecenti. Il terrore della 12enne sarebbe stato interrotto dall'arrivo del convoglio e dall'apertura delle porte che ha permesso alla ragazzina di raggiungere la madre e raccontarle quanto accaduto. In quegli stessi istanti l'uomo si sarebbe dileguato. I carabinieri della compagnia di Trani smentiscono le voci diffuse su una denuncia sporta dai genitori della piccola presso la caserma locale che al momento dunque non avrebbe ricevuto alcuna segnalazione. Durissimo il commento del consigliere regionale Mimo Santorsola che arriva dito quanto la stazione di Trani simboleggi un luogo divenuto terra di nessuno chiedendo al prefetto della BAT Emilio Sensi e al sindaco Medeo Bottaro di intervenire con urgenza per ripristinare un livello di sicurezza adeguato. Grazie. 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 Grazie.